ragazzi com'è che vi avevi avuto in mente di fare un lavoro tutto tutto due insieme? io non certo niente immaginavo allora l'ho costretto il centrale gli ho puntato un ferro alla tempia sono stati i nostri amici gli amici comuni che mi hanno detto ma perché avevo provato in allineamenti siamo andati in studio da sciocca abbiamo fatto una roba e ci abbiamo messo poco è venuta bene sciocca felicissimo usciamo da lì col provino casatissimi i primi quattro che abbiamo beccato dei nostri senti ma cosa stanno aspettando a fare cosa fanno un disco insieme muoveteli in realtà lo impegnativo lo dicevamo oggi cioè fantasticando più di una volta era uscito non solo in un backstage dopo averne fatte un po ma anche perché abbiamo già collaborato un sacco di volte non solo ai suoi dischi ma anche in dischi di altri che ci chiamano in coco da un po c'è questa cosa perché magari ci hanno sempre visto tanto assieme perché passiamo comunque tanto tempo assieme in generale quindi è stato veramente non naturale di più la spinta degli amici il sapere di andare in studio e fare una cosa bene poi in studio un'occasione non bastava però noi c'eravamo già beccati abbastanza a livello di ascolti sapevamo che più o meno ci piace poi la roba abbiamo un background diverso ma che ho con tanti punti d'incontro sapevo che non sarebbe stato difficile poi lui è vulcanico cioè lui è uno di quelli che proprio ti spinge a far bene perché va in studio e in poco tempo fa bene e quindi questa cosa è bella perché ti dà voglia anche di fare un po di pepare il culo tipo di competizione sana fra artisti che ti fa dire ok voglio spaccare e sta cosa secondo me si vede anche nei fit che sono certi hanno picchiato forte tutti quindi l'idea poi si tramuta in fretta in doveva essere forse un EP però abbiamo già otto pezzi non è più un EP cioè dovevamo pensarci quando ne avevamo tre che forse era un EP però abbiamo fatto veramente difficile poi fare un EP perché hai pochissimo spazio per andare a colpo sicuro ti puoi muovere poco spaziare poco col sound devi avere un concetto ben preciso e devi saperlo racchiuto in modo più verticale quando noi ci vogliamo sono diversi esatto io riduce da due P poi lo sapevo che era difficile dare un senso compiuto alle cose e secondo me in due non lo puoi fare all'inizio quantomeno al certo e se siete due identità diverse quanto amici per quanto con tante amicizie in comune avete due personalità del rap diverse magari un ideale del rap comune che vi consente di beh lui ha sicuramente uno status anche diverso dal mio comunque è più grande io ho sostanzialmente più o meno seguito i suoi passi fino a una certa quindi comunque lui ne sa di più e ha un impatto diverso anche discograficamente quando esce un disco di Enzio arrivavo dal 2021 con un mixtape che mi ha fatto suonare paradossalmente più nel 2022 sarà per quello che poi non mi sono messo a scrivere altro quando sono arrivato con lui poi al confronto io avevo due dischi da parte che smonterò l'idea era uno di chiamarlo l'epere uno di chiamarlo povero non sapevo se fanno nè per povero o povero bene eh è una rottura di palo uguale però lavorando con lui ho anche capito che per fare un bel disco devo fare altro e quindi rispaccherò tutto e ricomincerò da capo sicuramente e lui mi ha aiutato tanto in questo anche nella visione nella costruzione nell'assemblaggio è stato importante anche per i miei prossimi progetti hai detto una cosa molto umile molto bella di fratellanza figa e di imparare uno dagli altri ed è una cosa che nel disco Bruno si legge cioè nel disco ci siete tutti e due vabbè mica certo ah no come va quello è chiaro però cioè non è un aspetto da poco è un aspetto da poco e io mi sto dando dei bei blast e ti dico ero sicuro che Max fosse pronto a fare una cosa grossa e bella perché era nell'aria non che non l'avesse già fatto non l'avesse già dimestrato ma forse l'esperienza da questo punto di vista come sta al servizio del progetto è servita a tenere insieme bene le nostre qualità perché io ci sono già passato a spargere un sacco di energie e invece ho imparato poi col tempo a fare un po' l'imbuto e a metterle in una direzione più definita e questa cosa in realtà ripeto la sua esplosività è stata al servizio di questa cosa perché poi un sacco di begli incipit di ritornelli di idee di pezzi di scelta di sound comunque arriva da cose che porta direttamente lui pezzi di idee come i mamma era un pezzo suo io ho aggiunto la stofa come un puzzle e tra l'altro scrivere un disco insieme vuol dire che veramente mi siete trovati a spaziare tra beat diversi tra ispirazioni diverse per la prima volta su una proprietà intellettuale vostra cioè un disco vostro non una compilation di qualcuno o un pezzo fatto per il mixtape o la cosa devo dire che lui qua ha avuto tanto merito perché abbiamo avuto subito l'idea di andare dai producer noi a lavorare e di avere tutti i producer diversi perché avevamo detto se dovesse essere un EP facciamo cinque pezzi prodotti da cinque mostri poi sono diventati dodici prodotti da dodici mostri però lui era convinto fin da subito che non sarebbe suonata una combination e mi ha detto tu non ti preoccupare vedrai che io e te su qualunque beat siamo io e te quindi non ci sarà alcun dubbio e così abbiamo fatto ovviamente alcune volte cercavamo qualcosa e ne abbiamo trovato un'altra perché magari sai vai da Henry Datemaker perché vuoi il pezzo per sfasciare il club però quel giorno la giornata è uggiosa e lui non mi gustava un po' meteoropatico invece era uggioso anche lui e quindi è uscito quando nessuno guarda benissimo delle volte fai gol sulla tua idea delle volte l'idea ti trova e non sai dove era tu non sapevi dove era abbiamo scelto la persona giusta ma non sapevamo ancora per no poi diventa bello perché diventa anche l'opportunità per un produttore di non fare il suo pisce si trova di fronte a un'entità nuova e magari non vuole mettere il suo benchmark su di voi ma vuole fare un'altra cosa anche lui perché voi vi state mettendo in gioco e lui con voi vuole mettersi in gioco farà una cosa diversa beh Crookers è ad esempio migliore aveva fatto questi noi quando siamo andati lui ha siccome siamo amici assistito c'era poi abbiamo lavorato c'era nell'ultimo epico c'era un Crookers quindi aveva sentito anche dei beat di di quelli spezza ossa eravamo andati con quell'idea e poi ce ne usciamo con un minuto che comunque è la scheggia impazzita dell'album eppure non ripeto non rischia comunque di fare l'effetto compilation e qua un applauso secondo me a Max invece che nello scegliere la tracklist ha fatto un buon equilibrio poi consigliamo l'ascolto 1.12 sappiamo però che poi non funzionerà così e infatti tanti ascoltano come capita però dà l'attenzione di fare una bella tracklist ha l'attenzione a scegliere dei beat beat che comunque voglio dire ci hanno permesso di fare quello che volevamo abbiamo spaziato a livello proprio di sound e secondo me questa è una forza dell'album perché ogni cosa che parte anche quella che magari è presa circolarmente potresti dire a livello di sound non è perfettamente quello del momento non è però perfettamente quello dei 2000 è un sub che va bene adesso nel disco va bene cioè voglio dire sono tutti pezzi che io quando li ascolto dal punto di vista musicale dico ok abbiamo fatto un ottimo lavoro hai detto bene no? ci siete voi due alla base di tutto e quello che mi aspetto da Elsie e Lerone è che facciano rap al meglio in ogni situazione no? che era il rischio comunque da correre anche quello che secondo me si aspettavano che lui ci prendessimo la bandiera di sta cosa arrivassimo a cavallo di un break beat a fare per forza abbiamo spaventato tutti con il primo bezzo apposta c'era no? c'è un po' di cose però sarebbe stato inutile fare un disco che suonava a 94 fare un disco che suona a 2023 con gli ingredienti che abbiamo col background che abbiamo per scegliere delle cose fighe e quindi andare a prendere come il costrage che ha fatto su ballin un pezzo volutamente di ispirazione club 2000 oggi però si quindi non non era il frullatore di idee e basta o di tempo che è il vostro passato insieme che si vede che è cazzeggio no? perché a me poi sono bevuto in mente tutta la storia degli album fatti da due entità diverse che si vede che si vogliono bene faccio un esempio solo il Metal Man e Red Man in Federica negli anni 90 no? fine degli anni 90 cioè loro si vede che sono due personalità grandiose che però insieme raggiungono dimensioni completamente diverse no? aiutano la parte farsesca l'una dell'altra la parte seria l'una dell'altra e riescono a trovare temi per fare pezzi insieme dove le due personalità diventano qualcosa e sono paragoni importanti se ti piacerebbe bello ma che dici? capito? ma lì ci ho visto pure Run The Jewels in cose nel senso quando penso a una coppia poi noi avevamo questo mood board dove c'erano dai questo da Ferri Joy Big Pan ricotte spinaggi agli PMD cioè c'era un po' di tutto nel senso dalle robe vecchie non so Eric B e Rakim abbiamo proprio guardato ovunque dove c'erano delle cose che potevano essere di ispirazione anche Eric più recenti ovviamente certo di scatto con l'ombrello esatto di scatto con l'ombrello è chiaramente una citazione Ferri Joy Big Pan sì da quella foto famosa loro no? sì però è il senerone cioè non è loro capito? c'è il background c'è il richiamo chi ne sa tanto stiamo parlando con Al per chi ne sa no? esatto come Benzemaggio calcio per chi ne sa di calcio quindi facciamo rap per chi ne sa di rap è chiaro che se ne sai di rap sblocchi delle cose in più però credo che anche se non ne sai troppo di rap sì non è nerdismo non è name dropping e basta non è tutto il tempo l'asciugone su no? è narrativo anzi è anche quel tipo di linguaggio che abbiamo utilizzato è secondo me inclusivo da tutti quelli che magari sentono anche un bel linguaggio da altre parti però che raccontano un lifestyle e uno status diverso noi abbiamo utilizzato un linguaggio che è per tutti perché brava gente è per tutti è un po' il claim intrinseco quando uno dice io lo guardo da fuori dico non è un vero e proprio concept ok? cioè non è che tu vedi il ritratto caravaggiano della copertina nel disco però c'è sempre in qualche modo capito? è il soppotesto di tutto questa brava gente ma anche il modo in cui l'abbiamo presentato completamente cioè diametralmente opposto al rap e all'immaginario grafico certo questo è classico certo è stata una roba un po' vabbè in America poi lo fanno sempre continuamente prendersi sul serio tutto il tempo è una rottura di palle per tutti dresi dato travestito passivo alla gente tutto speaker a chiedere questa storia di Drake in giro cioè in Italia non lo vedresti no non è vero c'è quella leggerezza di non prendersi mai totalmente sul serio anche nel vostro lavoro si vede che c'è lo scherzo noi abbiamo la possibilità di farlo perché comunque guarda magari uno che forse visto da fuori sembra un pochino più serioso di me io non lo so perché lo conosco da vicino quindi per me è uguale a me però si è messo molto in gioco rispetto a quello che magari la software base da lui si aspettava e per me è stato è stato fantastico io sono messo capovindaggio di RP Tour a me non me ne è mai fregato niente di ridere scherzare per me è parte della mia vita non è sempre stata e sempre lo sarà abbiamo amici comici che addirittura lui hanno scritto props svariati che ho fatto ridere abbiamo fatto ridere un comico mio fratello e si può dire mi ha scritto Francesco De Carlo gli ha detto senti ma com'è sta cosa bella o fa schifo o è figa e lui mi ha mandato un pollice su mi ha detto far ridere cioè è bello nel senso è un bel feedback per noi perché un conto è voler far ridere un conto è fare ridere è un'altra roba su questa cosa io lì ci troviamo infatti l'avevamo sempre detto nel disco non c'è la parte più tra virgolette umoristica di questi due fanno male che sei 18 anni pensarei solo cringe bro esattamente ormai parlano solo così ed è solo se non fa ridere loro è cringe capito la chiave a me di far ridere un 18 anni non me l'hai fatto un cazzo non è il mio tipo di humorismo perché non ha la tua stratificazione il tuo passato probabilmente lo fai ridere qualcos'altro a me quello che fa ridere è magari la stand up comedy di un certo tipo è chiaramente la nostra ispirazione dal punto di vista anche della comicità che va più in una direzione del genere ma va in una direzione griffin magari perché è il nostro modo di pensare e di vivere quindi Seth MacFarlane tutta quella merda lì ci piace ma non solo c'è di tutto in mezzo capito e in più Shade ci ha dato una grande mano Shade ci ha dato una grande mano quindi vedi prendiamo l'ispirazione da quei appunto quattro ristoranti quelle cazzate lì però gli buttiamo dentro il doppiaggio come se fosse americano e poi ci siamo noi che facciamo i minchioni e tutto però senza arricchisce secondo me però è una roba che lui può fare perché non ho mai proclamato di essere sto cazzo negli ultimi vent'anni negli ultimi anni ho sempre come estetica come serietà della completezza degli album come profondità del rap anche nelle robe solo di punch voglio dire parlo proprio come immaginario totale mi sono concentrato su una roba che deve essere solida che mi rappresenta che quindi lascia meno spazio questa roba ma che non è che non c'è c'era e c'è sempre stata nei miei dischi se vado indietro e li riguardo penso a Sugar Mama che era un pezzo sulle MILF voglio dire ed è uno dei miei cavalli da battaglia ed è anche un pezzo tra i miei compiò ascolti di tutti quindi voglio dire più c'è ora fuori come si sono prestati anche tutti alla presentazione all'annuncio che comunque abbiamo chiamato ci abbiamo chiamato San Diego vedete che sta riuscendo uno con una maschera tua che non sei tu che non te la male la roba tua pure Fabri Fabri per favore ci mandi lo scritto audio del ristorante fine iniziano a dire che sei andato al ristorante e ti sei trovato male inventati qualcosa è arrivato a questa roba del cazzo del cuoco geniale a che allora come reference vado da Jimmy Tides e dico questo è quello che ha fatto Fibra è da Jimmy Tides e poi c'era Fabri Fibra che sfogliava i cazzi sul tenet si è attaccato a lui cioè tutti hanno voluto fare la figata capito anche se fa ridere capito soprattutto perché fa ridere perché saper fare ridere non è una guardavo e abbiamo già citati quella pesce di martirio che spaccano il culo loro a fare queste cose qua dicevo è anche sintomo di quanto ti stai divertendo con quello che fai perché poi tutta questa cosa no un po' ti massacra ci sta anche il modo per stemperare tanto sono contenuti ormai non è che si basa cioè tu ti devi ascoltare il disco non è che devi guardare solo come viene presentato eccetera certo il fatto che ne abbiamo trovato quella chiave è chiaro che se fosse stato un concept album dove ci scavavamo dentro chiaramente non era quello il modo di presentare il disco e anche se non lo trovi nel disco comunque va bene presentarlo in quella maniera figo anche trovare altre formule altre chiavi di lettura assolutamente altre strade non battute ma poi l'ho detto lavorare insieme è anche la chiave di lettura di voi stessi di mostrare delle cose che non erano mai state mostrate in quella maniera lì cioè avere essere spalleggiati da qualcun altro si ride in due meglio che da suoni anche se si è più bello ma si fanno gli shooting gli centenvisti l'ufficio star per tour in due si sta in studio in due cioè anche il carico lo dividi no? l'ansia lui poi arriva dai one me che era tutto diviso in tre addirittura sì però poi tanti anni tanti anni da solo quindi mi mancava anche un po' questa di risuone di riguardarti di avere un gruppo certo oggi c'è la sindrome da leader l'ego che no? non escono tanti gruppi se ci guardi vero e caro pochissimi due pochissima rose so mi piace questa idea qua poi le boy band immagina se il nostro circolo di amici un giorno decidesse no? dai facciamo un disco così come una posta importante nell'album se quella da quella cosa lì io sono per la connettività è bello secondo me questa roba qua dell'unione delle cose ha portato la scena in anni non sospetti a fare il salto che doveva fare perché post 2006 così le collaborazioni hanno iniziato a fioccare molto di più scene che non si acchiappavano proprio Milano Roma Napoli e il resto d'Italia che ancora non era così a parte poche cose degli anni 90 invece lì ci fu proprio un boost e la generazione del 2016 sta cosa l'ha sfruttata benissimo e ora secondo me è un'altra epoca dove bisogna innestare delle robe per creare cose fighe ma lo dimostra una quantità di album di coppia che stanno uscendo non è che ci siamo arrivati solo noi a pensare di unire le forze per fare una cosa diversa nel vostro la gente non si mette a paragonare va bene no infatti veramente mi strano mettere i prodotti sullo stesso livello è strano io nel vostro lavoro vedo tanto del passato ho la mia età ho la capacità di leggerla questa cosa ci vedo quella positività lì del fare le cose insieme però è vero c'è anche una lettura contemporanea del fare le cose insieme che è più numerica cioè di adizione i numeri di Elsie di Somme o quelli di Nerone avrai i numeri che può fare questo album anche se le vostre fanbase sono decisamente più sovrapposte i vostri amici sono comuni sì per cui è molto meno tavolino molto più assolutamente sì ma poi calcola che anche a livello business comunque entrambi essendo che i nostri amici sono comunque più o meno gli stessi tra virgolette ci siamo entrambi non dico sprecato perché è andato bene ci siamo giocati delle carte che entrambi potevamo usare per i rispettivi cazzi già solo entrambi giocarci quelle telefonate chiedere quel favore beccare queste persone sentire quell'amico è una roba che non è scontato che tutti facciano anche uno dice guarda io l'anno prossimo c'ho il mio disco il mio budget i miei cazzi mi devo fare le mie cose quindi con tutto il bene questo magari non chiamiamolo proviamo a chiamarlo separatamente non c'è stato una volta che si è detto questo si fa così cioè non c'è nessuna scacchiera discografica questa roba poi lo rimpiangeremo l'anno prossimo quando non pari schifo a parte che stiamo nel senso sia io che Max abbiamo fatto anche più numeri rispetto a quelli che stiamo portando adesso sul piatto ma sono buoni sono veri sono sani e sono soprattutto specchio là fuori cioè ci arriva un sacco di amore per strada da persone tra le più disparate giovani più grandi vedo il child come me c'è di tutto di mezzo è figo io che ne ho fatti tanti di album e arrivo da una storia più lunga di quella di Max glielo ho sempre detto dall'inizio bro il disco è bello è solido fidati di me e infatti secondo me sta continuando nonostante la mita degli album sia sempre più breve a riscuotere interesse anche chi ci sta inciampando adesso non l'ha scoperto l'ha scoperto perché gli ha rotto così tanto il cazzo il suo amico di di ascoltatelo lo ascolta e dice avevi ragione è figo poi a oggi che non fai neanche fai fatica c'è non uscire ad affezionarti o la roba però lo percepisco anche da quei pochi live che abbiamo già fatto e quelli che ci aspettano torna indietro lo dico sempre in proporzione sono il rapper più forte più povero che esiste tipo il più bravo a ripare con meno soldi di tutti sono io e quindi mi metto nella condizione del fatto che io comunque campo anche tanto di sogni io comunque ero all'in store suo in via un fosse ok ho comprato il disco mai penso di farci un disco assieme mai penso ero all'in store da blinders sempre a Google mai penso che la grafica me la fanno a Barcellona mai penso che in una stessa traccia riesco a mettere Enzi Fabri Fibra capito io questo è ossigeno per continuare a lavorare a prescindere di come vado io ho realizzato delle robe che comunque 15 anni fa erano vabbè dai non erano neanche sogni possibilmente realizzabili mi piacerebbe fare questo e i miei amici che mi mandavano a lavorare quindi per me questo è importantissimo abbiamo fatto delle cose che io personalmente non avevo ancora primi infimi coi vinili io non ci primo in niente mai tranne a Spit ma anche lui quindi per me va benissimo io mi sono tolto delle soddisfazioni incredibili che è meglio di aver venduto tanto tantissimo poi siete all'inizio di un percorso l'avete detto il disco è uscito da poco sta andando la gente ne sta parlando siamo qui che ne stiamo parlando c'è attenzione siete People's Champ vi siete un po' persi l'estate dal punto di vista dei live perché siete usciti da ridosso però avete l'opportunità di fare un inverno infatti ce l'abbiamo sono pochi i progetti discografici che hanno lungimiranza fino a quel punto così solida che non vi sia ancora giocato la carta del live che per voi due poi è anche cosa bella abbiamo anche fuori le prevendite stanno già andando benino voglio dire sia Milano che Torino sono i primi due appuntamenti che abbiamo dato a novembre a proposito di live come uscirete nelle date invernali benissimo per parlare di setup ah siamo io e lui è un DJ alla vecchia non ne abbiamo chiaramente soprattutto per l'estate abbiamo quello che ci serve una scaletta di fuoco con delle belle sorprese ad alta tensione non è mai che chiude con un po' di lacrime per tutti ci deve essere in una formula veramente classica e clean direi però con tutto l'amore che abbiamo perché ci hanno amato tanto e quindi ridaremo tutto davvero abbiamo ricevuto tanto tanto amore io ho mai ricevuto proprio a livello umano così tanti complimenti mai proprio bello anche dai colleghi ci hanno scritto chi ci ha beccato oh un bel disco conersi un bel disco conerlo raga il disco è bellissimo dove andiamo ora se è un amore e quindi io vorrei restituirlo sul ballo perfetto grandioso ma non vediamo l'ora speriamo che passi in fretta anche l'estate e no io volevo tornare un secondo sul concept del titolo e della copertina che sono comunque due aspetti abbastanza importanti che poi si leggono e non si leggono nel disco ogni tanto uscite e rientrate da quello schema lì titolo brava gente perfetto siete bravi ragazzi questo è fuori di dubbio lascia sottintendere che c'è qualcuno che non è brava gente in giro e voi volete posizionare sì certo però non era non era il messaggio il messaggio è inclusivo il messaggio è brava gente come la brava gente gli italoamericani all'inizio è vero tarantelle hustling di vario genere però per chi per la comunità tutt'oggi se vai a monitor al carlo c'è l'italitalia arrivi da solo lo ti danno due settimane da dormire dall'ora noi siamo questo per la comunità abbiamo fatto il disco giusto che era quello che volevamo sentire noi in realtà capito volevamo sentire un bel disco rap in italiano di due che sanno cosa devono fare scelgono bene i suoni e rappano e l'abbiamo fatto noi che non c'era diciamo ok c'era abbiamo fatto il disco che noi volevamo sentire quindi dalla comunità per la comunità brava gente la cosa che ho sempre trovato un po' onesta in voi due singolarmente soprattutto insieme è che siete brava gente che si mostra come tale umanamente easy clean non c'è da fare l'assol per forza perché devi essere per forza con un passato da marivolo per fare il rapper per essere incisivo si sente da come ne parli se c'eri o non c'eri perfetto e dall'altra parte invece il tema visuale visivo della copertina con voi due a tavola messi in una determinata maniera il cibo è nell'album in diverse maniere nelle citazioni nel sottendere dei pezzi no e si vede che la vostra convivendo è ovviamente lento questa cosa del cibo siete sicuri ecco sì qualcosa c'è no beh dicevo riempito di merende la costruzione di spuntini se uno legge anche chi ha comprato il fisico ringraziamo i tantissimi che hanno apportato il fisico perché ricordiamolo primo e infimi i saluti dell'album sono questi salutiamo panettiere ristoratori push barman pizzaioli fushi abbiamo fatto l'elenco di quelli che hanno contribuito attivamente al disco oltre chiaramente agli artisti quindi sì c'è il sottotesto di tutta sta roba qui anche l'italiano convivia esatto mettere un posto a tavola avere non c'è un doppio capotavola tra virgolette nel senso capito è le persone che sono lì non sono così visibili quindi è come dire potrebbe esserci chiunque al contempo non mi dà quell'effetto padrino a me quando guardo quella roba lì perché non era proprio quello che volevamo raccontare secondo me lo raccontiamo bene perché è un po' come se avessimo finito di mangiare stuzzichini siamo è la fine del pasto siamo a fine pasto siamo sazi come dire la brava gente che apparecchia per tutti e poi si siede a tavola con loro il fatto che ti faccio sedere con me a mangiare secondo me la cultura italiana è la roba più beh c'è il famoso abbiamo mai mangiato assieme capito noi ci conosciamo veramente è worldwide in tutta l'Italia io uno dei grandi amici recenti che ho fatto mi ha condiviso con me le sue polpette per esempio portano guarda mi dai la tua polpetta sei mio fratello stesso male per i brindisi che sono condiviso per noi è culto questa roba qui ed è giusto che lo sia e chiaramente poi vabbè Luca Barcellona Bin è stato bravissimo a good fellare però non troppo quindi quell'incontro fra due lettere bellissimo credibile c'è stato tanto dietro ci si hanno dato tante prove tante cose noi avevamo partiti dicendo good fellers mano good fellers per poi arrivare ad avvicinarci a quella roba là perché non c'era un altro modo di raccontare ogni proposta di racconto di Bin era incredibile c'era comunque c'era di teniamo tutto là che ne sappiamo boh magari di quelle grosse del disco lo sanno tutti sono con la pesce di Martino quella è bellissima lei dalle cosce con la pesce pure di Martino e soprattutto pugni di saggezza di tale di Mortal Kombat direi che quella quindi si meritavano facciamo le magliette con il rivelo con il rivelo con il rivelo con il rivelo e non saranno tutti d'accordo però chissà non è per fare tutti d'accordo beh io se fossi un parente ci fanno una ma così incredibile io appoggio io appoggio abbiamo parlato di stand up comedian di stand up comedy in un periodo dove anche in Italia se ne parla tanto credo che qui quasi si possa finalmente no avete fatto un disco per questo dog io vorrei solo dire una se non noi chi capito noi e loro rapper e comedian gli altri chi cioè gli altri hanno una figura istituzionale da dover portare avanti io li capisco però se non noi chi chi cazzo c'è chi il po' di spira nel fianco dai dai mamma mia vabbè come la comicità ci sono delle parole che non si usano più no c'è l'antagonismo approccio laterale alle cose che non si usano più in comunicazione no sono tutti o eroi o antieroi invece trovare una maniera per essere fastidiosi ma comportarsi da eroi non essere un villain un cattivo funziona sì deve poter funzionare sì ma per una gente un po' funk va a strasci con le merci poi tralasciando tutte le dietro tecnologie che ci vediamo noi che analizziamo questa roba in ogni suo piccolo aspetto perché siamo dei grandi appassionati prima ancora di essere no c'è di base che là fuori per molti la musica è il sottofondo della vita quindi ci sta che non è tutto per sbloccare quello che stiamo dicendo ma rimane la base che questo disco comunque non è un disco che mi pesa io lo riascolto ogni tanto mi capita veramente raramente di riascoltare le cose invece questo disco lo riascolto piacevolmente perché per sound modo di presentarci nostro cioè ha un buon equilibrio ripeto nel non prendersi né troppo sul serio di non essere troppo pesante e di non scocciare mai perché cambiamo sempre flow perché ci sono sempre più voci non è sono tutte cose che secondo me rendono là fuori anche senza tutto questo bagaglio che uno c'ha dietro per sbloccare ogni singolo particolare di quest'album un disco piacevole per chiunque ama non è un disco leggero non è un disco pesante quando hai voglia di qualcosa eh cazzo però adesso se ti ti ripare bene voglio una cosa tagli come sorrisi al numero 4 no numero 5 dove siamo? 5 cioè voglio dire dopo 4 pezzi dove palleggiamo arriva subito una bomba che per acciuto speranza ecco io dici cazzo cosa succede adesso perché perché c'è quello anche in brava gente perché c'è anche quello secondo me in un bel disco rap non può esserci solo pochezza ci deve essere qualcosa di più grosso premesso che pochezza non ce n'è perché comunque parliamo di roba di spessore parlo più che altro di profondità più che di pochezza profondità dell'argomento ecco se scendi sul tecnico diciamo che noi siamo comunque gente che lo fa e lo ascolta da tantissimo quindi quando sentiamo anche i dischi degli altri sappiamo quando non è vero sappiamo quando hai copiato sappiamo quando questo l'ha già detto qualcuno prima sappiamo quando ti abbiamo visto fare l'opposto di quello che stai dicendo perché comunque ci siamo da tanto qui non c'è niente che puoi siamo inattaccati perché non ci siamo confiati e quindi rimane lì non puoi dire niente anche chi ci conosce ascolta la roba nessuno ascolta la rima e dice ma vabbè a cagare tranne io e lui quando dice amo l'arte perché mi commuove io lo trollo lo prendo in giro se è meglio cosa lo muovo che sei tutto rambo farsene che sei l'occhi mancilla c'ho anche un lato però ci posso scherzarci almeno io lui è l'unico io lo dico che non mi mela ancora non mi mela speriamo non vi meniate mai ragazzi grazie per la condizione grazie a voi disco abbiamo fatto tutto questo per Aelle per essere capaci di guardarci indietro ma soprattutto di guardare un sogno per me bambino Aelle capito ma è per tutto tutto che si riguarda pure per me io ce li ho ben riconfezionati in casa con le loro copertine belle bene però non ho mai avuto la fortuna che abbiamo fatto siamo su Aelle ciao mamma è stato un piacerone la rito bella Sid bella Pete